Ciao a tutte e tutti, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao Vitamina, ciao cucciolo Mi vedete in una visuale, secondo me, molto diversa rispetto a prima, perché ho cambiato il telefono Poi vi metterò l'unboxing, però in silenzio, con un po' di musica, vediamo Perché ieri mi arrivo del telefono nuovo, quindi vi farò poi vedere, infatti sono registrata lì Infatti noterete tutti i miei bei difetti, che bello, veramente, venendo scoperto Comunque, oggi video get ready with me, perché poi vi devo fare due video Uno dei prodotti finiti, di gennaio, e uno video haul che ho comprato qualcosa su Shein Quindi vi faccio vedere un po' E basta, ci truccheremo insieme Allora, come primo prodotto sul viso vado ad applicare questo Che in pratica è della Nioxipur, è uno spray Vi dico subito, perché mi ricordo È uno spray per il viso, cioè, serve ad idratare il viso, cioè, dona veramente idratazione Mi piace molto Mi attacco i capelli, così già sono Cioè, più pronta Quindi è uno spray che ti idrata molto il viso e me lo spruzzo sulle mani E poi lo passo tipo un po' di crema e ti idrata tantissimo Anche se durante il giorno tu non metti tipo un cavolo di trucco che ne so sul viso Veramente questo ti idrata molto il viso Ma molto, molto Ora io sono piena di bollette Metto un altro po' Io penso che lo devo utilizzare soltanto per l'estate Invece vi posso dire che per l'inverno veramente Mi sta aiutando tantissimo Cioè, per l'inverno, per questo periodo mi piace Lascio qualche minuto che asciuga e poi applico la crema Questo è sempre Oxipur, sempre della stessa linea Che è questa una crema abbastanza idratante Crema del giorno complessa, ad azione idratante, protettiva e nutriente Dopo la prima, dopo la detersione a preparare A me piace perché sul mio viso, che è il mio viso comunque una pelle mista Come vedete già, giusto a che era rosso Comunque il mio viso è diventato Cioè, calma anche le irritazioni Non lo so se è vero Però ho notato questo Allora, questa crema in pratica È molto, ma molto nutriente Cioè, mi piace perché non è di quelle creme corpose Idrata, cioè sì Ti idrata, ma essendo che tu hai la pelle comunque mista e grassa Questa ti aiuta tantissimo Veramente, io già appena la aprivo Non la sento tipo grassa Anzi, la sento molto che Il mio viso se rassorbe Cioè, è come se appunto ho bisogno di idratazione E questa è una cosa molto positiva Perché È la verità Adesso applicerò anche un balsamo per le labbra Perché in questo periodo ho le labbra che Non fa bene Allora, vado a prendere la mia palette di Flormar E vado a prendere il correttore verde Per andare a Sistemare queste Questa puntina che Non posso vedere Vado a mettere un po' Un po' dei rossori Per andare a Diciamo A schiarire Oh, ma quello rosa prendo Poi una volta che mettiamo il fondotinta Lui Si dove basse stare Va bene Mettere anche un po' qui Lui 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 Rosso Va bene Che ci siamo Applichiamolo pure per il contorno occhi Quello di un altro colore Ovviamente Quello beige Ma l'altro L'altro lo applichiamo un po' Sulla Qui Anche Mi sono fatto tipo Ho fatto il viso di correttore Vabbè Come fondotinta Devo applicare le radie Quello di Yves Rocher Che è stupendo come prodotto Sì, però in questo momento Sto utilizzando questo Ed è la tonalità Rosè 200 Col mio pennello Con questo mi sto trovando Veramente bene Allora, in pratica Perché ho cambiato telefono Semplicemente perché si è rotto Perché il mio Faceva cagare E avevo Z8T Blade Vabbè Lasciando a stare perché avevo il Huawei Quindi Il Huawei è un'altra cosa Con il Huawei Potevi fare un sacco di cose Anche con questo Non vi svelo qual è Perché già ve l'avevo detto Che dovevo comprare un telefono Dovevo comprare prima quello che mi non ho consigliato Però Girando Io purtroppo l'ho presa online Voi dite i fidi Alla fine c'è il resto Cioè se una cosa non ti piace O comunque ti arriva Comunque Difettosa Sarà poi Tranquillamente mandare indietro Non ti deve creare appunto problemi Io ho due telefoni che ho mandato a ritirare online Mi sono trovata tutte e due bene Non ho avuto problemi Siamo andati tranquillamente Appunto con due telefoni che io ho comprato online Mi sono trovata bene Si sono rotti Perché comunque Il mio punto debole è lo schermo Le cadute Sta roba di qua Però questo Ho visto varie recensioni Sembra resistente Quindi non so Se è vero Perché ne so Se alcuni fanno una prova Su qualcosa di morbido Però Da quella che ho visto Io nella recensione di uno straniero Mi è sembrata così Comunque Questo telefono a me piace moltissimo Cioè veramente Io prima ho controllato la La scheda Tecnica ovviamente Comunque Ho comprato questi Quando avevo comprato questi due telefoni online Me lo trovo bene Quindi non problem Poi non lo so Se magari online Sono più controllati Non lo so Non ho idea Comunque Adesso voglio scoppire Leggermente Il viso Vado ad applicare la terra A questo di Avon La devo usare Perché se no Quindi In pratica Ho comprato questi telefoni Sono entrata bene Il problema L'unico problema Che non era problema E che mi si sono rotti E' bello schermo Questo io l'ho preso su Amazon Vedete perché su Amazon? Perché io prima di andare online Dovete fare il conto Che prima giro Giro io Nei negozi Anche tramite siti Non ha importanza Poi se trovo qualcosa Vado direttamente Di persona E vado a scegliere Vado a scegliere Sono andata io là E all'inizio Me volevo prendere Il Redmi 10 Avevo controllato lì Un po' le schede tecniche Il codice QR Ho detto Ma sì dai Mi piace Me lo voglio prendere Come me lo ha consigliato Piera Dice Prenditi Mi pare il Redmi 10 Mi ha detto Sì no Cosa del genere Prenditi quello E' bello Dice Ci trovo bene Ho detto Ma sì Andiamo su quello La metto un po' Sul naso Ma io ho occhiaie Vabbè Quando una dorme poco C'è questo Non è il problema Dormire poco E' dormire pure male Comunque Prima prendevo il resto Raid Con quello io andavo Benissimo Ora però Mi sono fermata Perché Ci vogliono un sacco Di soldi E non guadagnando Non c'è Comunque Adesso andiamo ad applicare La cipra di Faberlic Questa è quella chiara Molto chiara Col mio pannello Scuotiamo Allora in pratica Ho detto Vado là Sono andata a Mediaboard Dice Non c'era quello Dice Se fai il turno Ti prendi Ikedi E ti prendi quello che vuoi Allora Della palette Innanzitutto Di Brouche Vado a prendere Questo colore Questo lo uso poco E niente Vediamo cosa combinerò Comunque Vado al Mediaboard Scelgo il telefono C'è Ikedo Poi Nel mentre che controllo Vedo che comunque Negli stand Insomma Che ci sono Tipo quei passetti Le ceste Ho visto che c'era Loppo A53s A 179 euro Con 128 giga Di memoria Ci ha detto Oh mia cavolo Troppo bello 128 Rispetto al Redmi 10 Che ne aveva 64 Sì perché guardo pure la memoria Perché la memoria È super importante Anche se tu metti La scheda SD Però un cellulare Che già di su Ha 128 gigabyte È una bomba Cioè Non c'è bisogno neanche Che tu metti La scheda SD Allora Ho detto Buono 179 euro Vado in cassa E no Scusami Devi pagare 24 euro E 99 Per la pellicola E 15 euro Per il Mac Free Che è un Un antivirus Che puoi scaricare Tranquillamente tu Dal pc No Gli ho detto Non lo voglio Ma perché devo andare a pagare 25 E 15 Sono 30 40 euro 40 euro Di cose in più Che io non ho richiesto Se io ho quei soldi Scusa perché Mi devo andare a prendere Quello giusto Ho detto Scusi un altro non c'è Mi ha fatto vedere Un redmi Che non mi ricordo Qual è C Y Una cosa del genere 159 euro Ho detto Vabbè dai No questo Ha pure la pellicola E l'antivirus Ma fanculo Ho detto Allora ne scergo un altro Ho detto Allora Mi volevo prendere Il redmi 10 E dice No Tutti quelli Che vedi Qua sono tutti Con la pellicola E l'antivirus Mi chiedono Allora se li può ottenere Vado online Vedo su Su un euro Lo stesso No su un euro Dice Si lo può ordinare Ma se ne parla Tra 15 giorni Eh vabbè Cisse ciao Allora vado Allora vado direttamente Volevo andare nel sito Cioè sono andata nel sito Di Mediaport Ho detto Vabbè lo prendo là E me lo faccio inviare a casa Poi vado a prendere Questo marrone Che è molto usato Perché Mi piace troppo Con un pennello Da sfumatore Ho detto Vabbè vado online Su Mediaport Su Mediaport Non c'era scritto Né antivirus Né pellicola Quindi tu Se pagavi 159 euro Pagavi quelli E basta Cioè non è che Dovi pagare Spese in più Tu spese in più Non le devi pagare Vabbè Lo faccio inviare a casa C'era anche la consegna gratis E se ne parlavate A 10 e 15 giorni Cioè tra l'8 E il 9 di Genn... Di Di febbraio Ho detto No vabbè Ho detto Lasciamo stare Poi ho visto Cioè sono andata su Su Amazon E su Amazon Cosa vedo? Vedo Un'offerta Di questo telefono Che ho preso C'è una super offerta Del weekend Io potevo prendere Questo telefono A un buon prezzo E infatti Così è stato Uno che è Pantaggiato col virus Questa ambulanza Sì Comunque Quindi Ho fatto così Io ho dimenticato Di mettere Il correttore Illuminante Prima Va bene Comunque Sono andata Su Amazon Ho visto che c'era Questa offerta Del weekend Ho detto E ho detto Che è troppo bello Cioè mi è venuta Veramente bene Me lo sono presa Lì Me ne sono fregata Dei siti Dei negozi No Dei siti Dei siti No Dei negozi Ma non è affare In culo Quindi me lo sono presa Alla Mi sono presa Nel sito Sono stata Contenta E molto Soddisfatta Scusa Andare a pagare Lava Perché devo andare A pagare 40 euro Sono cose che La pellicola Ha già alcuni telefoni Tra l'anno Inclusa Povera Appendere questo Marrone Un top Scuretto Cioè ma perché Io devo andare A Pagare Quel tot Se io Ho quei soldi Contati Mettiamo Ho preso E se li può Tenere A me sono Andato No perché Secondo me Sapete che cosa Che non li vendono Queste pellicola Dice così Per forza Il cliente Se li deve Prendere Perché le vengono Inclusi Ma che l'ha detto Scusate Mi si è staccato Proprio il video Perché mi sono Aiuto delle chiamate Allora 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 Vado a prendere Il pennello È un colore Marrone Molto Matte Quindi In pratica Cos'è successo L'ho preso Online E mi sono Entrato Super bene Infatti La mangio A parte No Non la prendere Online Sono tutti Contro Lo so Però io Online Non mi sono Entrato Bene Alla fine Poi se mi trovo Male E ci sono Problemi Lo mando Indietro Cioè Facendo Da qui Sembra un pastocchio Però di presenza È molto Molto Più Bello Molto Molto Sì Sì Solo Che Ok Vado a prendere Un gel Questo Per le sopracciglia Dell'Avon Linea Mark Pratico Si chiama Deep Brown Questo Va molto Che non Utilizzavo Non lo so Poi Pennello Obliquo Per andare A fare Vado a Riempire Un po' Ok Beh scusate Cioè Devo Unire il video Perché Molti disturbi Allora Faccio L'altro Sopracciglio Io Questo Purtroppo L'ho voluto Cioè Voglio cercare Di finirlo Perché In pratica È un prodotto Che Ho da un bel po' Anzi Non so Anzi Non so come mai Ancora Scrive Vabbè Forse perché Io le cose Li tengo Proprio Chusi Raga Cioè Non sono una Che Cioè Non sono una Ragazza Che tiene Tipo i prodotti Aperti Capite Questo Mi voglio dire Adesso Utilizzo L'eyeliner Che è questo Di Faberlic 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 Oh vabbè Vai Ok Ok Adesso Vado a mettere Un po' Di matita Ok Matita Vado ad utilizzare Questa di Ah Questa di color trend Che ho utilizzato ieri Vabbè Utilizziamo Questa di color trend Quindi ha cominciato a scrivere Questa matita No Perché ho sempre I miei dubbi Ricordanti le matite Color trend A che ti scrivono A che non ti scrivono Cioè Veramente Tu devi fare la fatica Di non so chi Per poterla utilizzare Sì Questa di color trend Pensavo che era Quella di Cien Quella di Cien Raga Dell'euro Dell'idl Niente Quelle sono fenomenali Cioè costano 1,49 euro Sempre Anche a prezzo Allora Quando hai sconto 99 A prezzo fisso A prezzo fisso Va a costare 1,49 euro Ma io me ne compri Tipo 10 Perché Perché sono super scriventi Adesso andiamo a applicare Primer E mascara Cioè sono super scriventi Sono super scriventi E quindi Vabbè Il verso Tipo Che cosa Vanno male Non le scia bianche Se niente da vecchie Allora Cioè Costano 1,49 euro Appunto A prezzo fisso Quando sono sconto 99 Conviene Prenderne 3-4 Infatti Quando vado là E li vedo Qualcuno La prendo sempre Ora molto che non vado Quindi non ho potuto prendere Perché mi dovevi prendere La cera Perché ne ho presa una Ma quelle a strappo Con Con le strisce Non mi piace Cioè No Non mi piace Questa con le strisce Sì Allora Ho trovato L'emoliente labbra Questo è di Avon care Boh Non metto a fuoco Ci piace Mamma mia E quando esce domani Questo in pratica In inverno È durissimo Invece In estate C'è tipo Burro liquido Comunque Questo è Bellissimo È un balsamo Fighissimo Perché ti idrata Una botta Velocemente Di tradazione Andiamo ad applicare In mascara Che è sempre Super long Di color trend Allora In pratica Cosa stavo dicendo Queste matite Sono Quelle matite Di Cien Sono spettacolari Io devo andare là A comprare La cera depilatoria Quella brasiliana Perché quella Che ho preso L'altra volta Mi è piaciuta troppo Mi sono entrata bene Ed è quasi finita Cioè Sono tipo Nell'orlo Nel bordo Proprio Quindi Se potrò Ci andrò Perché ne ho preso Una di Cien Solo che Queste a strappo Con le cere Quelle tessuto Le cere Le strisce Tessuto Non tessuto Non mi piacciono Non mi piacciono Perché è troppo Aggressiva Sto cera Sì Ti toglie tutti i pelli Però cavolo Qua e qua Ti fa tipo Le bruciature Non mi piace Ti arrossa molto La pelle Purtroppo L'ho presa Mi sembrava Mi sembrava Che era quella Brasiliana Ha avuto Che brasiliana Un brasiliano Mannaro A farti Proprio A strappi Allora Di brush Vado ad utilizzare Questo Che è un Rosè Contour Che è una Della linea Avon Di tempo fa Che praticamente È un duo Di terra Però Mi era caduto Io la terra L'ho stato Mi era caduto E si è rotto Io però L'ho ricompattato E quindi Un pochettino Di brush Perché questo È molto bello È un rosato Bellissimo Poi da un'altra Palette Di Define Sculpe Sempre Avon Vado a prendere L'illuminante Un illuminante Cerco di applicarne poco Perché tanto La cialda È Quasi finita Bello È bellissimo Cioè Illumina moltissimo Adesso Il pezzo forte È il rossetto Il rossetto Andrò ad utilizzare Della linea Matte Legend Che ho preso Alcuni rampioncini Che mi interessavano Allora In pratica Volevo acquistare Due rossetti In versione grande Di Matte Legend Della linea So che sono Di rossetti Bellissimi Ma siccome Ne ho un sacco Meglio evitare Quindi ho preso I rampioncini Così testerò quelli Quindi se Poi sono convinta Al cento per cento Utilizzerò Quello grande Allora Con questi rossetti Mi sono entrata bene Infatti ho voluto Prendere i rossetti I rampioncini Per Testarli Allora Questo che andremo Ad applicare È stupendo E si chiama Unforgettable Non cosa del genere Non ci mette a fuoco lui Devo vedere No Lui mette la luminosità Comunque È stupendo Lo andiamo a mettere Bello Ok Il trucco è finito Comunque del rossetto È stupendo Dà proprio Un'accensione Proprio Lo so Sembra un pochettino È stivo Però poi Diciamo Ti vado a ossidare Tipo che Vabbè Non diventa Proprio scuro Non si ossida Però è Stupendo Comunque Spero che Il video vi sia piaciuto Al prossimo video Ciao raga Ciao raga Grazie a tutti